Cento i disoccupati che saranno impegnati in progetti di pubblica utilità grazie ai minicantieri del comune di Caltanissetta che prenderanno il via nelle prossime settimane. Gli uffici della solidarietà sociale infatti stanno completando le ultime verifiche sulle gradatorie stilate che verranno pubblicate entro il mese di gennaio. Incrementato con determina dirigenziale l'impegno di spesa per il progetto che passa da 75 mila euro dello scorso anno a 225 mila euro complessivi per il 2018. Un impegno mantenuto dall'Aggiunta a Ruvolo con la determinazione di ulteriori somme per 150 mila euro. Destinatari dei minicantieri disoccupati che non percepiscono altre indennità e che certificano un ISEE non superiore a 3 mila euro. Non si tratta di assistenzialismo, si tratta di ricevere una prestazione. E lo fa garantendo un lavoro per 5 mesi perché queste 100 persone si alterneranno, non più 3 settimane ma 5 mesi e prenderanno una somma di 400 euro al mese. Di nuovo c'è che anche questa volta per individuare l'attività che svolgeranno, questa amministrazione dopo aver avuto un incontro con l'ufficio tecnico e il comando dei vigili urbani per stabilire le priorità degli interventi farà un incontro sia con la commissima che con le consulte. La ripartizione di questi proventi saranno per il 50% per le famiglie con figli, per altri 25% per famiglie con dei figli e per gli ultimi 25% per singoli casi. Grazie. Grazie.